Si è dimesso a sorpresa l'ambasciatore britannico presso l'Unione Europea. Sir Evan Rogers, a poche settimane dall'inizio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione, lascia così una patata bollente nelle mani di Theresa May, secondo l'analista Vivian Pertusot. Ora che se n'è andato la questione è chi può sostituirlo, chi è abbastanza competente a Londra o nelle capitali europee per sostituirlo e fare il lavoro di condurre i negoziati che stanno per cominciare molto presto. È una questione molto complessa in questa fase. È evidente che le sue dimissioni sono una cattiva notizia dal punto di vista del Regno Unito. La premier britannica Theresa May ha promesso di avviare quelli che sono probabilmente i negoziati più complicati nella storia dell'Europa del dopoguerra entro la fine di marzo.